Nell'insieme questo decreto ha fatto dei passi, non c'è dubbio, i passi avanti li ha fatti anche sul nostro stimolo, noi forse qualcosina in più l'avremmo voluta, però il risultato c'è e il risultato principale è che si torna a parlare di questo tipo di politiche. Dopodiché, diciamo così, nella mole di emendamenti, discussioni notturne, con evidenza c'è stato un passaggio, diciamo c'è stato un incidente, ci sono tre righe che sono scomparse, che vanno certamente ripristinate, lo dico responsabilmente, e credo che il governo debba farsi carico, noi ce ne faremo carico, perché effettivamente io credo che forse sulle banche qualcosa si è fatto, si poteva anche fare qualcosa in più, ma quella norma va corretta.